Circa 600 metri quadri di reti abusive sono state sequestrate, 98 all'odore sono state liberate nel corso di un'operazione compiuta a tutela dell'ambiente dai militari alla sezione operativa navale della Guardia di Finanza in Manfredonia, che hanno trovato e hanno messo i sigilli ad un vero e proprio impianto illegale per la cartura di Avifauna realizzato nei pressi e l'acquedotto sulla statale 89. La struttura era costituita da 8 reti parallele al terreno sorrette da 50 paletti in ferro per una superficie totale di 600 metri quadri. I militari hanno trovato intrappolate nel Marchingegno 78 all'odore che sono state liberate, mentre oltre 20 risultate ferite sono state affidate alla polizia provinciale di Foggia, che ha provveduto a trasportarle presso l'osservatorio faunistico provinciale per la successiva riabilitazione di reintegro nell'habitat naturale. I 98 uccelli avrebbero fruttato circa 1000 euro di profitto alla persona che aveva realizzato l'impianto abusivo e che avrebbe venduto i volatili, i quali rientrano tra le specie protette. E questa è la terza operazione del genere compiuta di recente ai finanziari di Manfredonia. Complessivamente sono stati liberati nei tre servizi svolte a tutela dell'ambiente 250 uccelli, tra lodo le cardellini.